Sì, siamo nel studio Baxi. Si sta bene. Benvenuti nel nostro studio Baxi. Tu sei presente. Grazie, grazie, grazie per una tremenda reazione. È una prossima edizione, è un prossimo programma di studio Baxi. Noi siamo più contenti di portare a essere qui. Tu sei contento con me. Tutti la reazione con noi, wow. Puoi seguire il nostro libro Facebook. Puoi seguire il nostro libro Instagram. Puoi seguire il nostro libro YouTube. Mi nome è Rexel Engelhardt. Adesso come mi ti? Jorge. Jorge conosci il nostro studio Baxi. Quali per l'altro? Baxi. Baxi. Junto con me in il nostro studio, Jorge. Nossi conversare un rato. Seguire con Jorge. Tocando su vita. Jorge, quanto ti 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 ti. Tremendo, cosa ti 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 è molto molto importante con venturfs, karate, polizzi, tutti gli altri. Sto studiando a MSV? Con volare! Con volare! Sono studiante, sicur, 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 per noi sfruttare del programma del Studio Baxi. Tu, se ti interessa? Per venire al Studio Baxi? Puoi prendere contatto con noi via Facebook. Ma sui like, share, comparte con altri. Comparte tutto quello che sta passando nella comunità. Perciò stai qui nella montagna, del Studio Baxi. Jorge, l'abbiamo sempre qui va a scrivere voi. Conta con voi. Conta con voi. Great! Cosa pensi di tipo di iniziativa in questo programma? Pensi di un altro punto di vista. Un altro punto di vista. Cosa pensi di un altro punto di vista? Cosa pensi di un po' di media? Mi piace di avere delle parole di motivazione, di inspirazione. Abbono anche, dalle cose cose. Dalle idee. Di pensi di un nuovo, innovazioni, caratteristiche. Cosa pensi di un altro punto di vista? Autore dei bisogni di un altro punto di vista. Poi s'appuixa il nostro programma del Studio Baxi. E sicur, sicur, è stato il nostro programma del nostro programma. Perché se fosse ovunque. Sì, sono ecco e iscriviti. Considere il nostro programma del studio Baxi. è un grande senso di solito. E io sicuramente voglio avere tutte le classi di esito con il programma di studio di Dicom. E qui c'è la informazione. E qui c'è l'opportunità di papi e qui c'è l'importanza di expressare in modo che Giorgia è totalmente inspirato per il programma. E qui c'è l'opportunità di Dicom di Dicom è molto grande. E qui c'è l'opportunità di Dicom di Dicom e qui c'è l'opportunità di sapere di Dicom. E qui c'è l'opportunità che è molto grande per dare una informazione. E qui c'è l'opportunità di Dicom. E qui c'è l'opportunità Grazie, studio di Dicom. C'è l'opportunità. Sii. ok sei contento che ci sono? grazie, grazie, grazie grazie c'è un programma che non si può creare ma sono più ovelli in comunità grazie 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 grazie